Il martinismo e l'ordine martinista di Francesco Brunelli Fu Papius il fondatore del martinismo? Nel capitolo precedente abbiamo chiarito che esistono diverse fasi e diversi momenti di un'unica corrente in cui delle sovrapposizioni e delle degenerazioni legate alla personalità dei maestri che caratterizzano appunto tali momenti sembrano addirittura dar vita a qualche cosa di differente che in realtà non è se si raschiano le sovrapposizioni. Il martinismo contemporaneo vuol farsi derivare dal martinismo moderno ed in genere si commette l'errore di legare questo martinismo esclusivamente a Papius mentre esso è composto da molti autorevoli uomini che agirono contemporaneamente a lui o dopo la sua scomparsa dalla scena terrestre. E questo è un punto che va bene chiarito perché non ci sembra valida in assoluto l'affermazione che l'ordine martinista moderno fu fondato ex novo da Papius nel 1891. Anzi, a tale affermazione si dovrebbe quasi rispondere con un no perché quando nel 1891 inizia la fase di ripresa martinista il martinismo antico si era solo apparentemente esaurito in Francia dopo la rivoluzione avviene l'incontro tra due iniziatori Papius e Chambousseau. Ambe due erano eredi di una iniziazione martinista che fu anche oggetto di discussione quanto a validità perché da un lato la linea di Papius mostra un vuoto apparente e quella di Chambousseau ha come anello di trasmissione ad un certo punto una donna. Su questa questione è bene soffermarci un poco ma è bene che si premetta che noi non mettiamo in discussione la validità iniziatica del martinismo anche se certi dettagli e certe validità in qualche momento possono essere discutibili. Quanto diremo a questo proposito assume una significazione relativa sia perché se l'iniziazione è anche un fatto formale non è esclusivamente legata ad essa sia perché al primo gruppo di riorganizzatori del martinismo ben presto giunsero altri validi apporti con le rispettive filiazioni. E veniamo alla ben nota linea di trasmissione premettendo quanto scrive Van Rienberg concludendo una serie di ricerche su Saint-Martin e cioè che non si può negare l'esistenza di una catena iniziatica propagata da lui Claude Saint-Martin anche se si deve escludere la strutturazione di un vero e proprio ordine martinista. Le iniziazioni individuali di Saint-Martin scrisse considerate da molti pura leggenda sono bene una realtà. Secondo Amadou egli aveva creato una società degli amici intimi composta da coloro che erano in grado di comprendere il suo insegnamento e ai quali dava tutto se stesso e i simboli della sua iniziazione. La maschera il mantello le tre luci sono giunti a noi vivificando ancora oggi la catena dei superiori incogniti. Paul Auguste Marie Euddo Albert Fauchu noto come Barlet Maurice Barr Jacques Bourget Lucien Samuel Stanislas de Gaïta Julien Luger Georges Montierre Joseph Mepeladon e infine Paul Cedir Ben presto Barr e Peladon essendo cattolici si dimisero e furono rimpiazzati da Mark Heaven e Victor Emil Michelet L'ordine così ricostituito inizia una rapida diffusione a cui ovviamente non poteva far riscontro un altrettanto valido lavoro iniziatico. Basti pensare infatti che ben presto l'ordine contò circa 20.000 fratelli che se da un lato costituivano un'elite intellettuale spirituale e forse anche iniziatica dall'altro non potevano neppure possedere una formazione esoterica comune tant'è vero che la storia del martinismo moderno è costellata appunto da incomprensioni derivanti da queste differenze. Comunque è incontrovertibilmente chiaro che all'inizio del martinismo moderno vi sono due fondatori e non uno seguiti a distanza assai ravvicinata da ben altri dieci elementi di primo ordine aventi ciascuno un proprio bagaglio e delle proprie filiazioni iniziatiche. Per tali ragioni non possiamo affermare che il moderno martinismo abbia avuto un'unica chiara scuola ma è sorto da più linee culturali confluenti tra di loro. Per questa ragione i richiami alla dottrina originaria sono affiorati di sovente confluendo e trovando successivamente in Robert L'Amblaine un valido interprete. È senz'altro ammissibile ed accettabile che tra i dodici fondatori dell'ordine martinista nel 1891 chi interamente si dedicò ad esso fu Papius ed è forse perciò che Papius che era un divulgatore un volgarizzatore di eccezionale validità viene ritenuto erroneamente come il suo fondatore mentre in senso assoluto non lo è affatto. È tuttavia con Papius che il martinismo divenne un qualche cosa di differente per tingersi di quell'occultismo occidentale di cui fu veramente il volgarizzatore ed il propagandista e sul quale ovviamente non si possono che porre delle riserve. Ci sembra difficile dover identificare il martinismo con il papiusianismo e del resto l'eccessivo eclettismo che fu alla base del risveglio martinista fu anche la causa delle numerose scissioni che caratterizzarono la sua forma moderna e che si manifestarono alla morte di Papius e successivamente. In Francia e conseguentemente nel mondo si ebbero infatti tra i rami principali i seguenti l'ordine martinista sinarchico di Blanchard l'ordine martinista tradizionale con Chambousseau l'ordine martinista rettificato di Boucher e l'ordine martinista facente capo alla sede di Lione con coloritura fortemente martinezista ma anche se Papius non è stato il solo fondatore del martinismo moderno accostiamoci maggiormente a questa figura di particolare valore senza scadere nel culto della personalità scrive suo figlio Philip Hunkus nel documentato libro dal titolo scienze occulte Papius la sua vita il suo lavoro le seguenti parole dopo essere stato materialista dopo essere divenuto spiritualista ed occultista Papius fu infine portato al misticismo in seguito all'incontro con il maestro Filippo Sant'Ive Dalvedere fu il suo maestro intellettuale Filippo fu il suo maestro spirituale questo inviato che predicava la carità la bontà la fede in nostro Signore Gesù Cristo fu per Papius un maestro venerato Papius nacque in Spagna il 13 luglio 1865 laureato in medicina si dedicò ben presto allo studio delle scienze esoteriche ed occulte così che in una lettera al Flammarion poteva affermare che la teoria dell'ermetismo sulla costituzione dell'uomo teoria che non è cambiata dal tempo della diciottesima dinastia egizia cioè da 36 secoli è la sola che può far comprendere in una maniera logica e soddisfacente tutti i fatti osservati si riferisce a tutta la fenomenologia metapsichica allora studiata alla facoltà di medicina di Parigi l'anno seguente 1891 dava vita all'ordine martinista come precedentemente abbiamo detto il 25 ottobre 1916 secondo le sue stesse previsioni muore per tubercolosi il figlio nel volume sopracitato così scrive avendo l'onore e la gioia di essere suo figlio potrei avere la tendenza a rivestirlo di ogni virtù ma questo sarebbe opera imparziale e non costruttiva mi faccio dunque un dovere di dire qui che Levi Saint-Delvidré Stanislas de Gaeta Barlet gli furono nettamente superiori nel campo filosofico e dell'alta scienza tradizionale per contro egli fu un realizzatore geniale e servì efficacemente la causa dello spiritualismo sarebbe sufficiente di per sé questo estratto e questo non nostro giudizio sulla sua opera complessiva dal punto di vista dei contenuti per rispondere immediatamente di no alla domanda che ci siamo posti ma è bene approfondire un po' l'argomento